Impulsiva, schietta, no, scusate, rifacciamo. Impulsiva, simpatica. Ciao ragazzi, sono Feli Gueye, ho 24 anni, sono di Milano e le origini sono del Senegal. Cosa faccio nella vita? Ho sempre lavorato come modella. Modella, fotomodella, bikini models, ragazza immagine, quello che c'è da fare. Vivo giorno per giorno, sono impulsiva, non si sa mai, compagnia, belle cose, bei ragazzi. Emotiva, sincera e come si dice? Oddio, cioè quando ti viene da fare quello che ti... Impulsiva, sincera, impulsiva, gelosa, può essere. Dicono che sono molto gelosa. Mi trattengo più che, cerco di trattenere. Ritorno di fiamma eviterei, perché non sono qui per quello. Lo stuzzicherò tanto e mi vendicherò altrettanto, sempre che gli importi ancora. Secondo me l'impulsività può essere un fregio. Si dice impulsività? No. L'essere impulsiva può essere sia... può essere sia positivo che negativo. Cioè devi veramente stremarmi per portarmi a litigare. Cioè non è che sono quelle... le frecciatine, le battutine che prendi e dire perché devi fare la buffona. Questa è la cosa più... Allora... Ex on the beach non troverò il bello. Ex on the beach farò il bello. L'alcol, la moda, vestiti, cose, gioielli, creare, sai. Il bello. Ecco uno dei protagonisti della nuova stagione di Exxon The Beach Italia. Chissà come se la caberà sulle spiagge colombiane.